benvenuti in skybreak siamo sul pianeta arcadia dove siamo venuti ovviamente per salvare la razza umana perché quale altra ragione possiamo avere dal viaggiare attraverso lo spazio in un pianeta che la razza umana voleva colonizzare con dei robot che poi si sono rivoltati contro gli uomini e quindi il pianeta è stato abbandonato fino a quando non abbiamo avuto bisogno delle sue piante per cercare di salvare da un virus mortale la razza umana comunque va bene eccomi in tutta la mia bellezza una specie di esoscheletro sto facendo le prime missioni ho appena riparato il mio bot che vedete quella una specie di pallotta con l'occhio che sembra un po vasowski e seguiamo le missioni dobbiamo cercare di contattare gli altri scienziati inviati insieme a me su arcadia ok fighissimo cioè la grafica fa veramente paura se siete sotto il pianeta questa è una una stazione una cloud station all'isola delle nubi no ma sarebbe stato fighissimissimo se si fosse visto qualcosa ci spostiamo ok posso salvare e chiamare la nave qui non si può andare quindi devo tornare indietro ovviamente esploriamo la stazione ho riparato mi sono curato ho riparato tutto quello che necessario riparare ma poi ovviamente inutile al momento visto che non ho esplorato nulla solita a cassa con gli oggetti che ho già preso qui è una sorta di zona dove si può potenziare l'esoscheletro che è risposto sorta di troponica non idea di che cosa siano a fix crystal ho bisogno dei cristalli per fixare questa cosa ma non ho idea di che zona sia finita allora vediamo che missioni abbiamo quest quest go back to the space ship to fix it devo andare in space ship call the ship allora greenhouse appunto la serra navigation room call ship non c'è chiudere nulla 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 qui si è trovato il drone la mia nave si trova a 74 metri ah, ha la mia nave forse in tenda, ecco 65 metri di qua pioggia di merda ok open your surgeon to get your items sono stato attaccato ok no Q item selection, devo selezionare il blaster ho selezionato il blaster quindi oh e dai andiamo a scappare morirò perché questo stronzo non mi fa cambiare ok oh e dai ecco perfetto, sono morto come un knob maledizione ecco, la cosa meno intuitiva è sicuramente il modo in cui si spara potremmo concludere il video su un you died anche se non è molto ah perfetto, l'inizio da capo ecco vi faccio vedere quello che vi siete persi vabbè, non ho intenzione di cominciare da capo ovviamente che sono morto nulla di qui molto velocemente se non salvi qui inizi da capo ed è una cosa che ora avete scoperto insieme a me e vi saluto qui il gioco potrebbe, non so perché non so quale ma potrebbe avercelo alla prossima ciao ciao